buongiorno a tutti quanti questa mattina fa caldo lunedì 11 aprile 2022 ci sono 11 gradi ma non fa tanto caldo però tra poco arriverà il caldo alle ore 8 e 07 08 09 via con una buona giornata tutti quanti ci sentiamo stasera vive la figa ciao a tutti